Ciao ragazzi siamo ad Atene in Grecia ovviamente si vede la bandiera numero 48 per me è la 48 bene andiamo a vedere la città va bene? spettacolare molta 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 storia una storia mentre cammini ciao qua c'è un Pesamonia square questa è Piazza Karaiskaki teatro chiesettina avanti questa è la banca centrale della Grecia vediamo un'altra piazza adesso la vediamo questa è Piazza Klaftmonos vediamo la statua dall'altro lato questa è Colocotroni square piazza Colocotroni si per strada c'è il Natale delle scimmie qui siamo sotto al Parlamento andiamo eccolo qua è Parlamento ecco qua è Piazza Klaftmonos vediamo l'altro lato un piazza Syntagma dove c'è il Parlamento della Grecia un piazza Syntagma quindi a piazza Syntagma siamo sul via Ermou che è la via del passeggio collegata qui c'è la chiesa via principale avanti questa è un'altra chiesa questa è un'altra chiesa con il mercato se vuoi comprare più a buon prezzo questa è la piazza del mercato Blossard Market Blossard yogurt greco ragazzi yogurt greco gna gna questa è la libreria nazionale bella a fianco alla libreria c'è l'università bella ruota vicino usare il complesso a seguire attaccato adesso ci dirigiamo verso l'acropoli stiamo per entrare nell'acropoli siamo entrati siamo entrati lì c'è il mare vedi si vede il mare in fondo siamo all'acropoli adesso saliamo su tante scale abbiamo fatto abbiamo perso 5 kg l'acropoli l'acropoli siamo su ma ancora non è finita adesso quello che vediamo qui è la città a distanza mentre qua poi c'è l'acropoli 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 ragazzi adesso ancora saliamo con l'acropoli turisti vogliamo non prima non l'acropoli se ando mi Chiamo che ancora sia salio 안 l'agropoli di Atene l'Atene dall'alto l'agropoli da lontano il parco nazionale il parco nazionale andiamo a vederlo così qua lo zappeion studio culturale nel parco nazionale andiamo a vedere questa bellissima struttura in fondo andiamo a vederla andiamo a vedere la parte archeologica il Corro d'Olimpo adesso ci avviciniamo quello qua dei resti se ne hanno trovato praticamente sotterranei avanti avanti grazie a sintagma ormai piena mi piace la natalizia ho lo zappeio di sera nel parco nazionale l'agropoli 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 si semplicemente Atene è un gioiello pieno di storia da vivere cerchiamo la storia, consiglio ovviamente di farci un giro ad Atene Grazie a tutti